Sono finalmente ripresi i lavori che serviranno a completare la tanto attesa scuola dell'infanzia antisismica di Colle Atterrato Basso a Teramo. L'obiettivo ora è quello di concludere gli interventi per settembre in modo da inaugurare la struttura e permettere di accogliere circa 80 bambini. L'opera da contratto iniziale doveva essere conclusa da diverso tempo, ma a causa di una serie di vicissitudini i lavori di completamento sono stati più volte bloccati. Finalmente siamo qui proprio a dimostrare la ripresa dei lavori che è avvenuta già da lunedì, lavorerà la ditta tutti i giorni fino a quando non saranno conclusi i lavori anche nel mese di agosto in modo tale da poter restituire la città, questa struttura scolastica e metterla a disposizione del prossimo anno scolastico. È stata sicuramente una pagina complicata e difficile dell'attività amministrativa del comune in senso generale. Noi l'abbiamo ereditata, l'abbiamo ereditata con tantissime difficoltà, adesso siamo riusciti finalmente a riprenderla in mano e veramente a dare forse un nuovo impulso, un'aspettativa diversa rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Per il suo completamento mancano in particolar modo gli interventi nella parte esterna e la risoluzione di alcune problematiche riscontrate all'interno della scuola. Permetterà veramente di rendere fruibile la scuola che è l'obiettivo che ci siamo veramente fissati e che è l'obiettivo dell'amministrazione comunale. Questo è veramente un risultato che può sembrare cancellare una pagina brutta della storia dell'amministrazione comunale ma nello stesso tempo rappresenta veramente una ripartenza e veramente una risurrezione nel vero senso della parola. Devo ringraziare l'ingegner Bernardi che mi è stato vicino e che ha saputo interpretare la volontà dell'amministrazione comunale e a quale veramente devo dire grazie perché ogni giorno in questo anno e mezzo di attività amministrativa da parte mia siamo stati a parlare di questa scuola e siamo riusciti con le norme del codice degli appalti a poter riprendere in mano questo edificio e poter adesso dare veramente l'impulso finale per poter restituirlo alla nostra città.